Due. 23.19 IDT. New York City. Pum! Sentì qualcuno dare un calcio al fianco del suo scatolone e si mosse e strinse ancora di più la sua borsa di tela. Era stanca e voleva riposare. Una ragazza ha bisogno del suo sonno di bellezza, pensò, chiudendo di nuovo gli occhi. Ho detto esci da lì. Delle mani l'afferrarono per le caviglie e le tirarono rudemente fuori dal cartone sull'asfalto. Quando fu fuori urrò di indignazione e iniziò a scalciare selvaggiamente. Bastardo, figlio di puttana, bastardo, lasciami in pace, bastardo! Merda, guarda qua, disse una delle due figure che la sovrastavano, illuminate di rosso dall'insegna di un ristorante vietnamita da sporto, dall'altra parte della trentaseiesima strada ovest. Lui è una donna! L'altro uomo, che le aveva afferrato le caviglie sopra le scarpe da tennis sporche e l'aveva tirata fuori, ringhiò con una voce più bassa e minacciosa. Donna o no, la prenderò a calci in culo! Lei si mise a sedere, con la borsa di tela che conteneva tutti i suoi averi, stretta al petto. Nella rossa luce del neon, la sua faccia robusta e dalla mascella squadrata, era profondamente grinzosa e sporca del sudiciume della strada. I suoi occhi, affossati in orbite tinte di viola, erano di un blu pallido e acquoso, e brillavano sia di paura che di rabbia. Sulla testa portava un cappellino blu, che aveva trovato il giorno prima in un sacco della spazzatura strappato. Il suo abbigliamento consisteva in una sporca camicia grigia stampata a maniche corte e un paio di pantaloni da uomo sformati con le ginocchia rappezzate. Era una donna dalla corporatura robusta, in carne, e la sua pancia e i fianchi spingevano contro il tessuto ruvido dei suoi pantaloni. I suoi abiti, come anche la borsa di tela che portava, erano arrivati da un gentile rappresentante dell'esercito della salvezza. Sotto il cappellino, i suoi capelli castani striati di grigio pendevano disordinati sulle sue spalle, con parti tagliate qua e là dove aveva usato le forbici. Infilato nella sua borsa di tela, c'era un miscuglio di oggetti, un rotolo di lenza da pesca, un lacero maglione arancione chiaro, un paio di stivali da cowboy con entrambi i tacchi rotti, un vassoio ammaccato, bicchieri di carta e stoviglie di plastica, una coppia vecchia di un anno di Cosmopolitan, un pezzo di catena, diversi pacchetti di gomme da masticare, juicy fruit, e altre cose sepolte nella borsa, che neanche lei ricordava dove fossero. Mentre i due uomini la fissavano, uno di essi, con intenzioni malvagie, strinse ancora di più la borsa. Il suo occhio e lo zigomo sinistri erano lividi e gonfi, e le dolevano le costole, lì dove era stata gettata giù da una rampa di scale da un'altra donna indigente, al ricovero cristiano, tre giorni prima. Si era alzata da terra, era risalita dalle scale, e aveva rotto due denti all'altra donna con un gancio destro. «Sei nel mio cartone», disse l'uomo con la voce bassa. Era alto e magro, indossava soltanto un paio di jeans, e il suo petto luccicava di sudore. Aveva il volto barbuto e gli occhi pieni di ombre. Il secondo uomo, più basso e pesante, indossava una maglietta sudata e pantaloni verdi dell'esercito con bruciature di sigarette. Aveva capelli scuri e unti, e continuava a grattarsi linguine. Il primo uomo la colpì al fianco con la punta dello stivale, e lei sussultò per il dolore alle costole. «Sei sorda, stronza! Ho detto che sei nel mio cazzo di cartone!» Lo scatolone in cui stava dormendo era su un fianco in mezzo a un mare di sacchi della spazzatura, da cui colavano liquidi, una conseguenza dello sciopero della spazzatura che aveva intasato le strade e i canali di scolo di Manhattan per più di due settimane. Nel caldo soffocante di giorni a 37 gradi e notti a 32, i sacchi si erano gonfiati ed erano esplosi. Erano giorni di festa per i ratti e montagne di spazzatura restavano non raccolte, bloccando il traffico in alcune strade. La donna sollevò uno sguardo confuso sui due uomini, con il contenuto di mezza bottiglia di red dagger nello stomaco. Il suo ultimo pasto era stato composto da resti di ossa di pollo e quello che aveva raschiato da una confezione di cibo precotto gettata via. «Eh?» «Il mio cartone!» le gridò in faccia l'uomo barbuto. «Questo posto è mio! Sei matta o che?» «Non ha le rotelle a posto», disse l'altro. «È matta come un demonio!» «È altrettanto brutta! Ehi, che hai in quella borsa? Fammi vedere!» La afferrò e tirò, ma la donna emise un forte ululato e rifiutò di lasciargliela, con gli occhi spalancati e terrorizzati. «Hai del denaro là dentro? Qualcosa da bere? Dammi la stronza!» L'uomo riuscì quasi a strapparla dalle sue braccia, ma lei piagnucolò e vi restò aggrappata. La luce rossa si riflettè su un ornamento che portava intorno al collo, un crocifisso piccolo e scadente che pendeva da una collana di graffette inanellate. «Ehi!» disse il secondo uomo. «Guarda lì! So chi è! L'ho vista mendicare sulla quarantaduesima! Crede di essere una maledetta santa sempre a predicare alla gente! La chiamano sorella Crip!» «Davvero? Eh, forse possiamo dare impegno quel ninnolo, allora!» Allungò una mano per strapparle il crocifisso dal collo, ma lei volto la testa. L'uomo le afferrò la nuca, ringhiò e sollevò l'altra mano stretta a pugno per colpirla. «Ti prego!» implorò lei sul punto di singhiozzare. «Ti prego non farmi male! Ho qualcosa per te!» iniziò a rovistare nella borsa. «Tiralo fuori e muoviti! Dovrei spaccarti la testa per aver dormito nel mio cartone!» La lasciò andare, batte nel pugno sollevato e pronto. Lei emetteva dei deboli suoni cementi mentre cercava. «Da qualche parte qui!» murmorò. «Ce l'ho da qualche parte!» «Mettilo proprio qua!» allungò il palmo verso di lei. «E forse non ti prenderò a calci in culo!» La mano della donna si chiuse intorno a quello che cercava. «Trovato!» disse. «Proprio così!» «Bene, dammelo!» «Ok!» rispose lei. Il gemito era scomparso e la sua voce era dura come il cuoio cotto al sole. Con un movimento rapido e fluido, estrasse un rasoio, lo aprì con una torsione del polso e lo passò con forza sulla mano aperta dell'uomo barbuto. Il sangue schizzò dal taglio. La faccia dell'uomo diventò bianca, si afferrò il polso, la sua bocca si contorse a formare una O e poi l'urlo ne uscì come il suono di un gatto strangolato. Immediatamente la donna fu in piedi sulle gambe tozze, tenendo la borsa di tela davanti a sé come uno scudo e colpendo di nuovo verso i due uomini, che arretrarono inciampando l'uno nell'altro, scivolarono sul manto stradale reso viscido dalla spazzatura e caddero a terra. L'uomo barbuto, con il sangue che gli scorreva dalla mano, si rialzò tenendo in mano un pezzo di legno ricoperto di chiodi arrugginiti. I suoi occhi ardevano di rabbia. «Te la farò vedere!» gridò. «Te la farò vedere proprio adesso!» Cercò di colpirla, ma lei si abbassò sotto il colpo e lo tagliò col rasoio. Lui arretrò di nuovo barcollando e si fermò a guardare intontito la linea di sangue che perdeva dal petto. Sorella Krip non si fermò. Si voltò e fuggì quasi scivolando su una pozzanghera di percolato, ma riuscendo a mantenere l'equilibrio con le urla dei due uomini che risuonavano alle sue spalle. «Ti prenderò!» l'avvisò quello barbuto. «Ti troverò, strozza! Aspetta e vedrai!» Lei non aspettò. Continuò a correre, con le scarpe da tennis che pestavano sull'asfalto fino a quando non raggiunse una barriera di mille sacchi della spazzatura strappati. Vi si arrampicò sopra, prendendosi il tempo di raccogliere alcuni oggetti interessanti come una saliera rotta e una coppia fradicia del National Geographic, ficandoseli in borsa. Poi fu dall'altro lato della barriera e continuò a camminare, con il respiro ancora pesante nei suoi polmoni e con il corpo tremante. «Ci sono andata vicina», pensò. «I demoni mi hanno quasi presa, ma sia l'ode a Gesù e quando arriverà da Giove sul suo disco volante io sarò lì sulla spiaggia dorata a baciargli la mano». Si fermò all'angolo tra la trentottesima e la settima strada, riprendendo fiato e guardando il traffico passare come una mandria di bestiame in corsa. La foschia giallastra di esalazione di spazzatura ed emissioni di automobili si muoveva come la nebbia sulla superficie di uno stagno e il calore umido sembrò premere su sorella Crip. Gocce di sudore comparvero e iniziarono a scorrere sul suo volto. I suoi abiti erano umidi. Desiderava avire del deodorante, ma quello che restava del secret era finito. Guardò le facce degli estranei intorno a lei, tinte del colore delle ferite nel bagliore dei neon intermittenti. Non sapeva dove stava andando e ricordava a stento dove fosse stata. Ma sapeva che non poteva restare ferma a quell'incrocio per tutta la notte. Restare all'aperto, si era resa conto molto tempo prima, permetteva ai raggi X dei demoni di colpirti la testa nel tentativo di incasinarti il cervello. Iniziò a camminare verso nord, con la testa incassata tra le spalle ingobbite in direzione di Central Park. Aveva i nervi a fior di pelle per la sua esperienza con i due pagani che avevano tentato di derubarla. «Il peccato è ovunque», pensò, «nel suolo, nell'aria, nell'acqua, nulla tranne fetido, nero e maligno peccato». Vedera anche nei volti della gente, oh sì, si poteva vedere il peccato strisciare sui visi delle persone, ammantando i loro occhi e facendo contorcere le loro bocche. erano il mondo e i demoni che facevano impazzire la gente innocente, ne era certa. Mai prima i demoni erano stati così indaffarati o così avidi di anime innocenti. Pensò al luogo magico molto più in là sulla quinta strada e il suo duro cipiglio preoccupato si addolcì. Andava spesso lì a guardare quelle cose bellissime nelle vetrine. Gli oggetti delicati messi in mostra lì avevano il potere di calmarle l'anima e anche se la guardia alla porta non la faceva entrare, lei si accontentava di restare fuori a guardare. Ricordava che una volta c'era stato un angelo di vetro nella vetrina, una figura potente. I lunghi capelli dell'angelo erano spinti all'indietro come un fuoco sacro e scintillante e le sue ali erano sul punto di spiegarsi da un corpo forte e agile e nel bellissimo volto di quell'angelo gli occhi risplendevano di meravigliose luci di molti colori. Sorella Cripper è andata a guardare quell'angelo tutti i giorni per un mese, fino a quando non lo sostituirono con una balena di vetro che saltava da un burrascoso mare di vetro verde-blu. Certo c'erano altri posti con tesori lungo la quinta strada e sorella conosceva i loro nomi, Sachs, Fortunoff, Cartier, Gucci, Tiffany, ma lei era attratta dalle sculture in mostra nel negozio Stube & Glass, il posto magico di sogni che calmavano l'anima, dove lo splendore serico del vetro lucidato sotto le morbide luci le faceva pensare a quanto sarebbe stato bello il paradiso. Qualcuno l'ha spinto o no, facendola tornare alla realtà. Sbatté le palpebre nel caldo urlo del neon. Lì vicino un'insegna annunciava ragazze, ragazze dal vivo. Agli uomini piacerebbero morte? Si chiese. E sull'ingresso di un cinema c'era la pubblicità di Born Erect. Le insegne pulsavano da ogni nicchia e porta, libri sul sesso, aiuti sessuali, stereoportatili, armi per arti marziali. Un tuono di musica con i bassi al massimo usciva dalla porta di un bar e altri ritmi pulsanti e discordanti provenivano da altoparlanti collocati su una fila di librerie, bar, spettacoli di spogliarello e cinema per adulti. Erano quasi le undici e mezzo e sulla quarantaduesima strada, nelle vicinanze di Times Square, c'era una parata di umanità. Un giovane ragazzo ispanico vicino a sorella Crip teneva in alto le mani e gridava «Coca! Popper! Crack! Tutto è disponibile!». Non troppo lontano, uno spacciatore rivale aprì il suo cappotto per mostrare le bustine di plastica che aveva e gridò «Ti fa sballare! Ti farà volare! Buon prezzo! Buon prezzo! Buon prezzo!». Altri venditori urlavano alle auto che passavano lentamente sulla quarantaduesima. Ragazze in canottiera, jeans, pantaloncini o pantaloni di pelle, aspettavano davanti alle porte delle librerie o dei cinema e facevano gesti per invitare gli automobilisti ad accostare. Alcuni lo facevano e sorella Crip vide quelle giovani ragazze portate via nella notte da estranei. Il rumore era quasi assordante e dall'altro lato della strada, davanti a un peep show. Due giovani di colore si stavano azzuffando sul marciapiede, circondati da un cerchio di altre persone, che ridevano e li incitavano a ricorrere a un livello di violenza maggiore. Nell'aria, alleggiava l'aroma di canapa bruciata dell'erba, l'incenso dell'evasione. «Coltelli a serramanico!» gridò un altro venditore. «Coltelli disponibili!» Sorella Crip proseguì, con lo sguardo che sfrecciava cautamente avanti e indietro. Conosceva quella strada, questa tana di demoni. Era venuta a predicare molte volte qui, ma le prediche non servivano mai a niente e la sua voce era sovrastata dalla musica tonante e dalle urla della gente che aveva qualcosa da vendere. Inciampò sul corpo di un uomo di colore riverso sull'asfalto. I suoi occhi erano aperti e dalle sue narici era uscito sangue. Continuò a camminare, scontrandosi con le persone, venendo spinta e insultata, e il bagliore dei Neon quasi la cecava. La sua bocca si aprì e urlò «Salvate le vostre anime! La fine è vicina! Dio abbia pietà delle vostre anime!» Ma nessuno la guardò nemmeno. Sorella Cripp si tuffò nel vortice di corpi e improvvisamente si trovò davanti un uomo vecchio e contorto, con del vomito sulla camicia. Le imprecò contro e cercò di afferrare la sua borsa tirandone fuori diversi oggetti e scappando prima che lei riuscisse ad assestargli un buon colpo. «Andrai all'inferno, figlio di puttana!» strillò. Ed un tratto, un freddo gelido le morse le ossa e sussultò. La sua mente fu attraversata dall'immagine di un treno merci in corsa che le si avventava contro. Non vide chi la colpì. Sentì solo che stava per essere colpita. Una spalla dura e ossuta la spinse di lato con facilità, come se il suo corpo fosse diventato paglia. E nell'istante del contatto, nel suo cervello si incise un'immagine indelebile. Una montagna di bambole rotte e bruciacchiate. Non bambole, si rese conto, mentre cadeva verso la strada. Le bambole non avevano interiora che potevano uscire dalle gabbie toraciche o cervelli che potevano fuoriuscire dalle orecchie o denti per fare smorfie nel rigore congelato della morte. Colpì lo spigolo del marciapiede e un taxi sterzò per evitarla, con l'autista che urlò e suonò il clacson. Stava bene. Era solo senza fiato. E il suo fianco ferito pulsava. Si rialzò a fatica per vedere chi le avesse inflitto un colpo simile, ma nessuno le stava prestando attenzione. Ciò nonostante, i denti di sorella Krip battevano per il freddo che ancora la pervadeva, lì, nella notte più calda in piena estate, e si tastò il braccio in cerca di quello che sapeva sarebbe diventato un livido nero, nel punto in cui quel bastardo si era scontrato con lei. «Pezzo di merda di un pagano!» urlò a nessuno in particolare. Ma la visione di una montagna di cadaveri che bruciavano lentamente restò dentro i suoi occhi, e un artiglio di paura le afferrò lo stomaco. Si chiese chi poteva essere stato a passare sul marciapiede. Che genere di mostro indossa una pelle umana? Vide l'ingresso di un cinema davanti a lei, che pubblicizzava la doppia proiezione di The Face of Death Part 4 e Mondo bizzarro. Avvicinandosi, vide che il manifesto di The Face of Death Part 4 prometteva scene dal tavolo delle autopsie, vittime di incidenti d'auto, morte per fuoco, senza taglie e censure. C'era il gelo nell'aria davanti alla porta chiusa del cinema. Entrate, diceva un cartello sulla porta. «Abbiamo l'aria condizionata!» Ma decise che era più della sola aria condizionata. Questo era un gelo malsano e sinistro. Il gelo delle ombre in cui crescono funghi velenosi, con i loro colori rossastri che invitavano un bambino dicendo «Vieni, vieni ad assaggiare questo dolcetto!» Stava svenendo adesso, dissipandosi nel caldo torrido. Sorella Crip restò ferma davanti a quella porta. E anche se sapeva che il dolce Gesù era la sua missione e che l'avrebbe protetta, sapeva anche che non avrebbe messo piede in quel cinema nemmeno per una bottiglia piena di red dagger, nemmeno per due bottiglie piene. Si allontanò dalla porta, si scontrò con qualcuno che imprecò e la spinse via. E poi iniziò di nuovo a camminare. Dove stava andando non lo sapeva, né le importava. Le sue guance bruciavano di vergogna. Aveva avuto paura, disse a se stessa, anche se il dolce e santo Gesù era al suo fianco. Aveva avuto paura di guardare in faccia il male e aveva peccato ancora una volta. Due isolati oltre il cinema minaccioso, vide un bambino di colore gettare una bottiglia di birra in dei bidoni della spazzatura stracolmi nell'ingresso di un edificio malmesso. Finse di cercare qualcosa nella sua borsa finché il bambino non fu passato. E poi entrò in quell'ingresso e iniziò a cercare la bottiglia, con la sua gola assettata di un sorso di una goccia di liquido. Dei ratti squittirono e le corsero sulle mani, ma non se ne preoccupò. Vedeva ratti tutti i giorni e anche molto più grandi di questi. Uno di essi si erse sul bordo di una lattina e le squittì contro con indignazione furiosa. Lei gli lanciò una scarpa da tennis gettata e l'animale scappò. L'odore della spazzatura era putrido. L'odore di carne è andata a male da molto tempo. Trovò la bottiglia di birra e nella scarsa luce si allegrò nel vedere che ne restava qualche goccia. Se la portò velocemente alle labbra, con la lingua che vi penetrò alla ricerca del sapore della birra. Incurante dei ratti scorazzanti, si sedette con la schiena appoggiata al ruvido muro di mattoni. Quando appoggiò la mano a terra per reggersi, toccò qualcosa di umido e morbido. Si guardò accanto, ma quando si rese conto di cosa si trattava, si portò la mano alla bocca per soffocare un urlo. Era stato avvolto in qualche pagina di giornale, ma i ratti le avevano strappate con i denti. Poi si erano messi al lavoro sulla carne. Sorella Creep non era in grado di capirne l'età o se fosse un maschio o una femmina, ma i suoi occhi erano semi aperti, nel volto minuscolo, come se il neonato fosse sul punto di cadere in un sonno dolce. Era nudo. Qualcuno lo aveva gettato sul mucchio di bidoni della spazzatura, sacchetti e l'erciume soffocante, ma se fosse un giocattolo rotto. «Oh!» sussurrò e pensò a un'autostrada bagnata dalla pioggia e a una luce blu roteante. Sentì la voce di un uomo dire «Lasci che la prenda io adesso, signora. Deve darmela». Sorella Creep raccolse il neonato morto e iniziò a cullarlo tra le braccia. Da lontano arrivava il suono di musica ripetitiva e le urla dei venditori sulla quarantaduesima strada e lei canticchiò con voce strozzata «Dormi, dormi bambino, non piangere». Non ne ricordava il resto. La luce blu girava e la voce dell'uomo arrivava attraverso il tempo e la distanza. «Me la dia, signora, l'ambulanza sta arrivando!» «No!» sussurrò sorella Creep. I suoi occhi erano spalancati e fissi e una lacrima le scese sulla guancia. «No, io non la lascerò andare». Si premette il neonato contro la spalla e la piccola testa oscillò. Il corpo era freddo. Intorno a sorella Creep i ratti scorrazzavano e squittivano di frustrazione. «Oddio!» sentì dire a se stessa. Poi alzò la testa verso uno spicchio di cielo e sentì il proprio volto contorcersi e la rabbia fluì da lei mentre urlava «Dove sei?». La sua voce cheggiò lungo la strada e fu sommersa dall'allegro commercio a un paio di isolati di distanza. «Il dolce Gesù è in ritardo», pensò. «È in ritardo, in ritardo, in ritardo per un appuntamento molto importante, importante, importante!» Iniziò a ridacchiare istericamente e a piangere allo stesso tempo, fino a quando quello che le usciva dalla gola non suonò come il gemito di un animale ferito. Passò molto tempo prima che si rendesse conto che doveva andarsene e non poteva portare con sé il neonato. Lo avvolse attentamente nel maglione arancione chiaro preso dalla sua borsa e poi lo mise in fondo a uno dei bidoni della spazzatura, accatastandovi sopra più roba possibile. Un grosso ratto grigiole si avvicinò mostrando i denti e lei lo colpì in pieno con la bottiglia di birra vuota. Non riuscì a trovare la forza per mettersi in piedi e uscì strisciando dall'ingresso, con la testa china e le calde lacrime di vergogna, disgusto e rabbia che le scorrevano sul volto. «Non ce la faccio più», disse a se stessa. «Non posso vivere più in questo mondo oscuro. Caro e dolce Gesù, scendi nel tuo disco volante e portami con te!» Appoggiò la fronte sul marciapiede e desiderò di essere morta in paradiso, dove tutti i peccati erano cancellati. Qualcosa tintinnò sul marciapiede, risuonando come note musicali. Alzò lo sguardo. I suoi occhi erano annebbiati e gonfi per il pianto, ma vide qualcuno allontanarsi da lei. La figura superò l'angolo e sparì. Sorella Crip vide diverse monete per terra, a poca distanza da lei, tre da venticinque, due da dieci e una da un centesimo. Si rese conto che qualcuno aveva pensato che stesse mendicando. Il suo braccio si mosse come un lampo e raccolse le monete prima che qualcun altro potesse prenderle. Si mise a sedere, cercando di pensare a cosa fare. Si sentiva malata, debole e stanca, e aveva paura di sdraiarsi per strada all'aperto. Devo trovare un posto per nascondermi, decise. Trovare un posto in cui scavarmi una buca e nascondermi. Il suo sguardo andò a fermarsi sulle scale che scendevano nella metropolitana dall'altro lato della quarantaduesima strada. Aveva già dormito nella metropolitana prima. Sapeva che i poliziotti l'avrebbero cacciata dalla stazione o, peggio, l'avrebbero riportata al ricovero. Ma sapeva anche che la metropolitana aveva un dedalo di gallerie e passaggi non finiti, che si allontanavano serpeggiando dai percorsi principali e si addentravano in profondità sotto Manhattan, così in profondità che nessuno dei demoni in pelle umana poteva trovarla. E dove lei poteva rannicchiarsi al buio e dimenticare. La sua mano strinse le monete. Era abbastanza per farle attraversare il tornello. E allora si sarebbe potuta liberare dal mondo peccaminoso che il dolce Gesù aveva scansato. Sorella Crip si alzò, attraversò la quarantaduesima strada e scese nel mondo sotterraneo.